Per il settore moda occorre individuare politiche industriali di lungo respiro che diano risposte efficaci per valorizzare i distretti toscani della pelletteria, delle calzature e dell'abbigliamento. La riflessione viene dal vicepresidente di Confindustria Toscana Centro con delega al manifatturiero Moda Made in Italy, Niccolò Moschini. Moschini analizza la situazione che potrebbe presentarsi a settembre, definendola difficile, ed affrontare quindi in modo coeso. Tutte le componenti, secondo l'esponente di Confindustria Toscana, dovranno impegnarsi in una sola direzione. Moschini ricorda che quello della moda è un settore trainante per l'economia toscana. Il 40% degli occupati dell'industria lavora nel sistema moda. Per questo Confindustria si appella al senso di responsabilità di tutte le parti, anche dopo il patto di sistema sottoscritto con le organizzazioni territoriali di Filtem CGL, Femca CISL e Wiltek Will e con il contributo di Asso Pellettieri. Oggi non basta porre attenzione a una delle crisi più severe degli ultimi decenni conclude Moschini, ma occorre individuare politiche industriali di lungo respiro che si traducano subito in risposte tangibili ed efficaci allo scopo di tutelare i nostri distretti toscani.